Mi ricordo delle due differenze Si rancenando abbiamo i nostri 15 scuba hanno carne che sono in seconda posizione eccoli Ettore Diego Tenta con lo scampo giudici giudicassero molto alla brisa c'è già un problema che dovranno essere questi problemi visto che la milano ha provato molto corretta la milano ha cercato di recuperare la milano traiettoria del milano proprio per il bianco si trovano in una seconda posizione sono alla dirasa invitata da quella curabile rossa mancate all'appuntamento con Simona per la idrofly in conturna il tabolo tutto da seguire di 13 poi c'era l'alto piano Antonio che era sulle mancazione S18 che però non inizia con la prima fase di doppiaggio con lo scampo di bandesi peroni che si è trovato di fronte una cosa nazionale proprio perché la nostra scuola si è prestata lì nel mondo motorautico una federazione sempre molto attenta anche da parte giovanile la nostra scuola spraggiamo